A questo tornello è servito in preparazione al prossimo Grand Prix che dovremmo affrontare e sicuramente non eravamo in condizione ottimale per giocare. Così arriva dalla vittoria in partita americana e noi siamo in cartiera aperta, un gruppo di diversi giocatrici che hanno già calizzato da tanto. Quindi questo è importante, ci sono molto molto. Abbiamo visto dei buoni passi davanti, specialmente in questa partita, speriamo di continuare così e abbiamo davanti tanti obiettivi per arrivare bene all'Oropeo a settembre.